Sta per andare in onda Pianeta Oggi e venti nel mondo. Trasmissione condotta da Massimo Bonella e Alviano Appi. Buonasera, in studio Massimo Bonella dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV All News. Dunque sono le 19.01, iniziamo con gli aggiornamenti delle notizie. Una notizia che in primo piano una detenuta del carcere romano di Re Bibbia ha tentato di uccidere i suoi due figli. Uno è morto e l'altro è ferito gravemente. Gli avrebbero lanciato le due rampe di scale della sezione nido del penitenziario dove sono ospitati i bimbi fino a tre anni. La donna ha 30 anni ed era in carcere per reati di droga. È morto il figlio più piccolo, quattro mesi. L'altro, due anni, è ricoverato in gravi condizioni al bambino Gesù. La detenuta era stata arrestata ad agosto scorso per spaccio di stupefacenti. Il Ministero della Giustizia ha aperto un'inchiesta. Dall'estero. Ungheria. Il Parlamento ungherese ha votato una risoluzione su iniziativa del gruppo Fidesz, partito di Orban, che rifiuta il rapporto e il voto dell'Europarlamento che ha condannato le violazioni dello Stato di diritto in Ungheria. La risoluzione adottata con i voti della maggioranza governativa contro tutti gli altri invita il governo a non cedere al ricatto e a rifiutare le accuse ingiuste contro l'Ungheria. Nel testo si sostiene che il Parlamento Unione Europea ha condannato le decisioni ungheresi violando la sovranità di un paese. Veniamo adesso ad una notizia che anche questa tra poco sarà in primo piano, lo sarà anche nella nostra testata a pianetaoggtv.net. Dunque il noto PM di Palermo, Nino Di Matteo, dunque tutta la verità di fronte al CSM. C'è un articolo sulla testata antimafia2000.com, dunque io vi leggo solamente le prime due righe, articolo che è scritto dal direttore di questa testata, Giorgio Bongiovanni. Sono complete, esortive e con carte alla mano, le dichiarazioni del sostituto procuratore nazionale antimafia, Nino Di Matteo, chiamato davanti alla Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura per parlare ancora una volta dopo l'udienza a porte chiuse alla Commissione parlamentare antimafia e l'audizione lunga diverse ore al processo Borsellino Quater sulla questione del depistaggio ordito sulla strage di Via D'Amelio. E' così che Di Matteo è tornato a ribadire la sua totale estraneità nella vicenda che ha visto al centro la gestione del, tra virgolette, Pupo Vestito, il falso pentito Vincenzo Scarantino e delle sue false dichiarazioni, che hanno portato ad un allontanamento della ricostruzione della verità storica sull'assassinio di Paolo Brusselino e degli altri agenti di scorta. Ed ora veniamo alla nostra testata, brevemente in primo piano, il nostro settimanale Pianeta Oggi Report, approfondimento giornalistico, che viene onda sul circuito del digitale terrestre e anche radio in FM stereo. Adesso abbiamo anche la novità con la nuovissima emittente radiofonica in ampiezza modulata, vale a dire in am, sulla frequenza del 1584, denominata Radiodiffusione Europea da Trieste. Dunque abbiamo qui l'intervista al direttore Graziano D'Andrea, tra altre cose un volto noto e anche una voce nota, giornalista Rai anche, dove praticamente spiegherà un po' le prospettive di questa nuova emittente in am e altre sì anche la collaborazione con Pianeta Oggi TV. Poi attaglio subito sotto, sempre comunque attaglio prima, un importante articolo di Antimafia 2000. Come sapete la nostra testata ha una collaborazione quasi diretta con Antimafia 2000 di Palermo. Dunque l'articolo porta il titolo Papa Francesco contro i mafiosi, convertitevi o la vostra vita andrà persa. Ricordato anche l'impegno di Don Pino Puglisi. Ci fa chiedere cosa posso fare io di Aaron Petinari. C'è anche un filmato che potete consultare. Poi ancora un'ultima segnalazione a taglio medio, un altro settimanale Pianeta Oggi Reparote, quello che proviene di due settimane fa, con l'intervista all'artista Gerardo Pozzi. In anteprima però vi volevo segnalare e sottolineare la piena solidarietà alla televisione di Gorizia, Telemare, che dal primo settembre la redazione giornalistica è a casa. Praticamente cosa è successo? Che questa televisione non ha avuto i contributi sufficienti per poter poi stipendiare i dipendenti in redazione e sta di fatto che dal primo settembre tutte queste persone, sono più di uno, comunque sono diverse persone giovani, sono di fatto senza lavoro, calcolando che a Gorizia c'è una sola emittente e Gorizia, provincia e tutto il Triestino, di notizie da dare ce ne sono parecchie. Questa è la situazione che fotografiamo nel nostro paese. Sembra che le televisioni, le radio, le televisioni locali non piacciono allo Stato italiano. Sono le 19.07, vediamo se abbiamo qualche aggiornamento. Abbiamo accennato al direttore di Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni. Se voi andate nel canale YouTube Antimafia 2000, c'è da pochissimo pubblicata una sua intervista a Radio Popolare Network Papa, messaggio politico della Chiesa alla mafia. Potete ascoltarla, dura pochissimo, ma è molto interessante. A questo punto, linea come sempre a Dalviano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro. Saluto naturalmente attreviso il nostro regista, che rappresenta un po' la regia centrale, altresì editore di Radio Science TV, Rosario Moreno. E quindi a voi un buon ascolto, linea a Dalviano Appi. Prego, Dalviano. Grazie Massimo. Grazie Massimo. Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, hai citato prima il direttore della rivista Antimafia 2000, Massimo, e noi abbiamo il piacere di averlo qui questa sera. Questa sera noi parleremo di obbligo vaccinale e ne parleremo appunto con il direttore di Antimafia 2000, nonché fondatore della rivista, Giorgio Bongiovanni. Intanto, Giorgio, grazie per la tua presenza. Buonasera, buonasera a tutti voi e grazie a te e a voi, Aldiano. E ne parleremo anche con Carlo Canistraro, a cui do lo stesso un grazie per aver voluto partecipare. Grazie Carlo. Buonasera a tutti quanti i partecipanti. Grazie a voi. Allora, io anche perché so dei tuoi impegni, Giorgio, inizierei con te parlando appunto di questo obbligo vaccinale. Adesso si sono aperte le scuole. Diciamo che in qualche modo la mannaia dell'obbligo vaccinale con decreto legge del ministro del passato governo Beatrice Lorenzin è presente in qualche modo, adesso diciamo che il governo è molto altalenante su questa questione, ma diciamo che lo spettro dell'obbligo permane. E volevo fare con te una considerazione su questa obbligatorietà che tra l'altro mette in conflitto due articoli della Costituzione italiana che sono il 32 che appunto è il diritto alla salute, ma è che anche il 34 che diciamo che lo Stato ritiene obbligatorio la frequentazione scolastica fino alle scuole medie e questa è anche gratuita, cosa che tra l'altro non sarebbe qualora i genitori dei bambini non vaccinati dovessero pagare delle multe per poterli mandare a scuola. Allora, a te la considerazione di fondo. Allora, io ho un'opinione personale che vi dirò successivamente all'analisi politica che immediatamente faccio. Non posso, perché non sono competente in merito, disquisire sulla questione medica. Lascio a voi, soprattutto ai medici, quelli a favore della vaccinazione obbligatoria e quelli contro, contro il dibattito, la discussione. Certo è che un'opinione, io e la mia famiglia ce la siamo fatta, come tutte le famiglie italiane che hanno bambini minori o nipotini, nel mio caso, consultando dei medici ortopossi tradizionali e dei medici, chiamiamoli così, progressisti, cioè quelli che hanno una visione della medicina con tanto di curriculum, di lauree e di riconoscimenti, ma hanno una visione più aperta e quelli che invece hanno una visione più ortodossa. E ci siamo fatti la nostra opinione e abbiamo preso la nostra decisione. Ma il problema è politico. Politico, come sempre, in campagna elettorale si promette la luna ai cittadini italiani, i quali, come Pecoroni, come sempre, noi crediamo, siamo tanto razionali, scettici e pragmatici quanto stupidi perché crediamo all'asino che vola, che è quello che ci promette il politico quando vuole il voto, ci promette l'asino che volerà, ci promette la luna e noi crediamo che avremo la luna e che avremo l'asino che volerà. Invece dopo che il politico, il movimento politico, il partito vince le elezioni o le vince parzialmente come nel caso del Movimento 5 Stelle che io non ho votato ma ho certezza che la maggioranza della mia famiglia, cioè forse tutta, lo ha votato, quindi mi sento un po' parte in causa. Io non voto mai perché faccio il giornalista e sebbene ho diritto di voto preferisco fare il cane da guardia. Più che dare un voto a qualcuno. Invece i miei figli, credo, i miei parenti hanno votato 5 Stelle con la speranza di un cambiamento. Un cambiamento che stiamo aspettando e che non vediamo su determinate questioni fondamentali della vita sociale e politica italiana. Uno di queste è la sanità. Era stato promesso da Di Maio che avrebbero rivisto il decreto Lorenzin e avrebbero fatto qualche cosa. Non ci aspettavamo un cambiamento radicale anche perché giustamente non si può fare un cambiamento radicale sulla sanità. Ma certamente si poteva dare la possibilità alle famiglie che non volevano vaccinare i figli un'alternativa a questa multa megagalattica che avranno o comunque una parziale riduzione della penale o addirittura farli iscrivere lo stesso i figli. Invece no. Invece probabilmente sarà approvato. Quindi dal punto che ho approvato comunque un palliativo non cambierà quasi niente di questo discreto. Quindi anche in questo caso il Movimento 5 Stelle la Lega cioè il governo in carica non manterrà una delle promesse politiche fatte ai cittadini. Infatti ha ricevuto l'applauso di tutto il PD di Maio e il governo e di Forza Italia di tutte le forze tra virgolette apparentemente all'opposizione dico apparentemente perché su molte cose il governo si trova d'accordo con il PD con Forza Italia e con le forze di opposizione attualmente in Parlamento quindi hanno applaudito quello che non cambierà questo è quello che è accaduto politicamente poi la mia opinione personale è questa io non sono d'accordo con i vaccini sono d'accordo con alcuni dei vaccini non con questa quindicina 14 11 adesso non ricordo quanti sono perché abbiamo diciamo abbandonato grazie a Dio fino ad oggi sconfitto spero definitivamente il fascismo e il nazismo che ci obbligavano a delle cose pena delle sanzioni tremende prima si addirittura si mandava in carcere la gente o alla fucilazione però quando tu governo democratico mi imponi di vaccinare dei bambini se no non ti faccio iscrivere a scuola i figli oppure ti do 5 mila euro di multa a me nella mente mi viene il terrore l'immagine di quelle leggi fasciste che ci obbligavano a fare delle cose malgrado noi non fossimo d'accordo nella vita sociale nella vita materiale nella vita politica delle persone quindi io non sono d'accordo mai quando qualcuno mi dà un'imposizione riguardante la mia vita e la vita dei miei figli capisco che dice ma se il tuo figlio si ammala tu fai ammalare gli altri figli no no io semplicemente non ce lo mando a scuola non ce lo mando a scuola se mi viene data questa imposizione mi organizzo con le scuole private infatti le scuole private se tu paghi hai a tutti gli effetti e paghi meno della multa che ti farà lo Stato a tutti gli effetti ti fanno iscrivere a scuola i bambini e possono frequentare la scuola non è quella pubblica è quella privata e io che sono contrario un nemico acernimo delle scuole private alla fine lo Stato mi sta imponendo mi sta quasi pregando di andare a iscrivere i figli alle scuole private perché lì non avrai nessuna multa o dovrai pagare ci sono delle scuole adesso diciamo della media borghesia non dell'alta borghesia che ti permettono di fare iscrivere i figli a scuola e lì vaccini non te ne chiede nessuno quindi il problema è molto complesso io non condivido nemmeno la vaccinazione per le poche informazioni che ho a livello medico perché sento puzza molto di traffico economico delle grandi case farmaceutiche che visto che l'Italia siamo un branco di pecoroni quale migliore paese per fare da cavia ai bambini con i test delle nuove medicine e delle identifizioni 15 paesi hanno detto no qua non si obbliga niente a nessuno 15 paesi non dell'Africa oppure del Sud America vecchio della dittatura militare no dei paesi che fanno parte di tutti gli effetti dell'Unione Europea con tanto di democrazia hanno detto alle case farmaceutiche quindi hanno imposto ai loro governi i cittadini che non bisogna obbligare la vaccinazione chi se la vuole fare se la fa si fanno certo che ci sono quelle 1 o 2 o 3 che sono veramente effettivamente logicamente da farsi ma 11 12 vaccini in 15 paesi europei dicono no perché noi dobbiamo dire sì ecco allora Giorgio ti ringrazio di aver aperto un attimo questa finestra così ti faccio ancora una domanda prima di lasciarti andare fermo fermo restando che la persona normale non vede la ragione di un obbligo vaccinale in assenza di qualsivoglia epidemia ma proprio in totale assenza allora io ti chiedo se sei giornalista per la memoria che puoi avere tu diciamo che nei rapporti di forza tra politica e potentati economici finanziari come quelli che sono sicuramente le case farmaceutiche l'Italia non ha una buona storia ecco non so a me vengono in mente le vicende della signora Tina Anselmi mi vengono in mente anche quelle del ministro De Lorenzo Duiglio Poggiolini noi abbiamo qualche cosa che ci dovrebbe mettere un po' in allerta da questo punto di vista assolutamente io non ho nessuna prova a livello giudiziario di inchieste in corso io faccio cronaca giudiziaria quindi mi occupo di questo che ci siano tangenti come quando ci sono state negli anni 90 che hanno incriminato gli alti vertici della sanità italiana però vi posso dire questo che sento puzza odore marcio delle case farmaceutiche impongono con la loro potenza economica determinate cose vi faccio un esempio che è di mia competenza la politica i leader politici nel nostro paese non comandano molto anzi quasi niente io penso che sono solo nella migliore delle ipotesi persone in buona fede che cercano di darsi da fare nella peggiore sono solo delle marionette nelle mani dei poteri forti italiani questo sì che vi posso fare un esempio con dati di fatto e delle prove alla mano che sfido chiunque dal ministro Salvini al ministro Di Maio in tribunale a dimostrare quello che sto dicendo il governo 5 stelle aveva promesso a livello di per quanto riguarda la giustizia la lotta alla mafia determinate cose molto precise e aveva promesso di nominare determinate persone ai vertici della giustizia o del ministerio degli interni persone di competenza perché avrebbero fatto pulizia e aperto luce su una vera e finale definitiva lotta contro la mafia per sconfiggere invece non ha fatto niente di tutto questo ha fatto marcia indietro non stiamo parlando della democrazia cristiana del partito socialista del cosiddetto CAF Craxi Andreotti Forlani il vecchio CAF stiamo parlando del movimento del cambiamento del movimento che vuole rivoluzionare positivamente l'Italia nemmeno della Lega che è stato comunque un partito di governo per tanti anni stiamo parlando della novità assoluta eppure la novità assoluta con persone per bene come lo sono Di Maio come lo è il primo ministro che tra l'altro a me mi è simpatico e mi fa fare bella figura nel mondo con la sua carisma con la sua competenza però purtroppo nei fatti questo governo in determinate cose sta facendo degli errori gravissimi uno di questo è appunto la lotta alla mafia compromesse non mantenute quindi se tanto mi da tanto la marcia indietro sulla questione vaccini io ci leggo una pressione potentissima delle grandi case farmaceutiche che con le banche italiane fanno affari d'oro e allora ecco la diciamo la mezza marcia indietro che ha fatto il governo speriamo che ci ripensano se no io chiamo questo governo quando scrivo degli articoli sulla giustizia il governo del non cambiamento mi auguro di sbagliarmi per quanto riguarda i vaccini e la sanità e altre cose spero di sbagliarvi bene allora Giorgio io ti ringrazio della tua partecipazione e speriamo speriamo di essere smentiti nei fatti ma sappiamo anche che prima di tutto dobbiamo essere molto concreti molto concreti esatto allora grazie a te e a tutti bene allora Carlo Carlo Canistraro tu sei osteopata non sei un virologo non sei un esperto del settore ma intanto io ti ho invitato perché so che tu hai una vicenda personale familiare con i tuoi ragazzi sulle vaccinazioni e io partirei da qui per fare alcune considerazioni sì eccoci allora io oltre a essere un osteopata sono anche un genitore come tu dicevi e quindi mi sono cominciato a interessare delle vaccinazioni quando la prima figlia vent'anni fa doveva vaccinarsi perché a quell'epoca c'era l'obbligatorietà per quattro vaccini e lì è cominciata il mio percorso di conoscenza che mi ha portato oggi a fare avere un'idea come Giorgio su cos'è la vaccinazione e io volevo però qui fare una piccola parentesi perché oggi si usa mettere davanti i famosi no vax e i pro vax o il free vax ogni tanto li chiamano anche ecco vorrei far notare come questo mettere sempre in contrapposizione due realtà fa sempre l'effetto di mettere in condizione la gente di combattere l'una con l'altra questo lo vediamo in tutti i casi in tutte le situazioni quindi per me questa realtà della vaccinazione è uno dei tanti casi in cui si cerca di mettere l'uno contro l'altro un cittadino contro l'altro cittadino perché è questo quello che accade nelle scuole il genitore che ha vaccinato pretende che chi non è vaccinato non abbia il diritto senza rendersi conto che così priva la libertà dell'altro è tutto un sistema che funziona per il famoso vecchio detto no dividi e ti infera questo funziona sempre la storia il buon Vico diceva che la storia si ripete sempre ebbene lo vediamo ogni giorno se stiamo un po' attenti vorrei semplificare le cose proprio se posso nel mio piccolo e se noi guardiamo i vaccini l'ha già accennato Giorgio obbligo vaccinale in Europa 11 paesi senza obbligo 17 paesi già questo fa pensare ma che senso ha che ci siano dei paesi che non hanno l'obbligo e qualcuno che ce l'ha perché se noi guardiamo la nostra realtà qualcuno una certa dottoressa non neanche dottoressa la Lorenzini ha detto che c'è stato un momento in cui c'erano dei rischi di epidemie in realtà se ci fosse stato un rischio epidemia credo che tutta Europa avrebbe preso in considerazione avrebbe fatto un movimento una considerazione nel merito invece niente di tutto questo è accaduto e se noi guardiamo la storia ricordiamoci che quando siamo andati a fare la guerra in Libia in Afghanistan sono state trovate delle motivazioni che sono state riconosciute postume assolutamente irrilevanti ci ricordiamo il gas che non c'è mai stato in Libia e poi è stato anche dichiarato che non c'era dagli inglesi quindi voglio dire c'è sempre la miccia che deve fare innescare il sistema una miccia che molto spesso è fatta di menzogna e questo è un dato di fatto non lo dico io sono gli eventi che lo dicono e la stessa cosa per quanto riguarda la storia vaccinal d'Italia del perché in Italia da 4 vaccini obbligatori siamo passati inizialmente a 12 per poi retrocedere a 10 per dire e questo è molto importante da sapere e qui vorrei fare una piccola riflessione sulla medicina in generale senza entrare nel meglio io non sono medico però io sono padre sono una persona che studia e io non è che devo mettermi a livello del medico il medico ha la sua competenza ma io mi metto a livello del genitore che deve prendersi la responsabilità di iniettare qualche cosa nel corpo biologicamente del figlio ed è mia responsabilità non del medico questo è importante che noi capiamo almeno per me la mia verità è che i nostri figli la salute dei nostri figli è nostra responsabilità il medico è un consulente e come consulente è pagato da consulente ma il consulente non ha una verità assoluta la medicina soprattutto che non è neanche scienza perché la medicina sappiamo non essere scienza in quanto non è riproducibile e non è verificabile al cento per cento dato sta che se io ho un dato clinico in mano una risonanza per esempio e la faccio leggere a tre medici diversi rischio tre informazioni e diagnosi diverse devo dire che non è possibile che ci sia scienza nella medicina ma io prendo giusto così il signor il signor Rosis vicepresidente della linea genetica della Graxon un po' di anni fa diceva che la stragrande maggioranza dei farmaci si riferiva a più del 90% dei farmaci funziona solo nel 30 o 50% degli individui cioè la faceva dichiarazione questo signore qua prendiamo un altro esempio il signor Steve O'Connor sempre un capo della Graxo diceva che quasi tutti i farmaci sono inefficaci in più della metà dei pazienti e aggiungeva quando addirittura non sono nocivi queste sono dichiarazioni molto forti molto forti i personaggi che hanno vissuto l'ambiente del farmaco l'ambiente dell'industria del farmaco probabilmente alla fine della loro vita mettiamola così ci si fa un po' delle domande un po' di coscienza viene fuori di solito alla fine e poi ci sono queste ricorrenze e anche il signor Benno Leutold che è medico e scienziato e ricercatore per la Roche che ha lavorato ad Harvard perciò personaggi qualificati di una certa capacità dice che i test clinici sono oggi figli di una sola necessità la ricerca di margini sempre maggiori di profitto ecco mi fermo qua solo per mettere in luce che non c'è nessuna certezza in questa vita tanto meno la medicina ce l'ha farmaci che ieri erano i migliori sul mercato vengono ritirati perché si sono visti morire delle persone d'accordo quindi non c'è nessuna verità la domanda è a questo punto questa se c'è una certezza rispetto alla vaccinazione beh ben venga ma che vengano portati dati certi oggi non c'è nessun dato certo sono tutti dati in contrapposizione scienziati che dicono che la miglior cosa è la vaccinazione che garantisce l'immunità bla 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 quelle cose che ci siamo sentiti dire ma ce ne sono altrettanti che dicono di no che non è così che si può guardare la vita si può guardare la malattia con altri occhi in altre modalità e il problema qual è io cittadino guardo questa battaglia e cosa devo fare devo scegliere per me e quando uno stato che dovrebbe essere di diritto non mi dà questa possibilità ma mi obbliga senza essere supportato da una scientificità che dovrebbe essere informazione certa e non lo è e lo sappiamo che non lo è a questo punto siamo e sono d'accordo con Giorgio in una condizione che è molto simile al fascismo di una volta ma tanto simile e quindi prendo questa nota qui e qui vorrei dimmi 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 ecco volevo dire intanto per chi ci ascolta do un dato una casa farmaceutica francese la Sanofi Pasteur è molto famosa ma nelle Filippine sono stati vaccinati nel 2016 oltre 700 mila bambini contro la febbre dengue che è portata da una zonzara in quelle zone eccetera la società l'anno seguente ha dovuto ritirare i vaccini perché ci sono stati gravissimi casi di avversità al vaccino e sono stati ritirati l'anno seguente nel 2017 questo per dire la realtà e lì sono stati vaccinati 700 mila persone 700 mila bambini che sono persone allora io volevo comunque fare una riflessione con te su quello che io ho trovato una cosa grave da parte anche del mondo sanitario ufficiale e anche pro vaccini diciamo di fronte ad alcune affermazioni che sono palesemente errate e ti spiego e ti chiedo un'opinione su questa cosa allora io adesso cito tra virgolette e lo dico subito quando inizio le virgolette il ministro Lorenzing il 22 10 14 alla trasmissione porta a porta dichiarò aperte virgolette solo di morbillo a Londra in Inghilterra lo scorso anno quindi nel 2013 sono morti 270 bambini per un'epidemia di morbillo molto grave un anno dopo il 22 10 2015 esattamente un anno dopo però in un'altra trasmissione a piazza pulita il ministro afferma aperte virgolette di morbillo si muove in Europa c'è stata un'epidemia di morbillo a Londra lo scorso anno cioè in questo caso 2014 sono morti più di 200 bambini allora il dipartimento della salute inglese dà invece i seguenti casi un decesso per conseguenze di morbillo tra l'altro di un 25enne che è morto per una poliomelite acuta nel 2013 un decesso a fronte dei 270 affermati dal ministro e nessuno nel 2014 a fronte dei 200 allora io mi immagino che il ministro della salute debba affrontare le questioni cercando di provocare una una problematica cioè una certa apprezzione se veramente siamo in quel caso ma altrimenti in modo assolutamente pacato scientifico tranquillo e diciamo il sistema sanitario italiano anche se provaccini avrebbe dovuto comunque smentirlo queste cose non succedono ed è un fatto gravissimo in cui io ho l'impressione che si voglia spaventare le persone parlare alla pancia delle persone invece che presentare un quadro oggettivo beh assolutamente in accordo con te ma in Italia ormai funziona così in Germania si scopre un ministro che ha copiato la sua tesi il giorno dopo questo ministro è dimissionario obbligato in Italia ormai si può dire di tutto di più una Lorenzini che per due volte perché una volta uno dice forse si è sbagliata o la persona che l'ha scritto la relazione ha messo un dato impreciso ma farlo la seconda volta vuol dire che uno sa che può dire quello che vuole e che non può succedere niente lì sono d'accordo con te dico perché metto paura le persone che non hanno conoscenza e quindi si imbattono in una realtà di paura per poi andare poi a procrastinare verso un provaccino piuttosto che no la domanda è non so se ti ricordi ma c'era un altro ministro all'epoca ministro dell'istruzione che parlava di quel famoso tunnel dove passavano i neutrini non so se ti ricordi sì ma è questo una dichiarazione così da un ministro della pubblica istruzione il giorno dopo deve essere allontanato per incapacità per non conoscenza mettiamo quello che vogliamo ma con molta dolcezza gli si apre la porta e gli si dice guardi forse è il caso che sì ma invece in Italia non è più così guarda per esempio se noi guardiamo proprio il morbillo prendiamo in America hanno un'altissima copertura vaccinale a tutti i livelli se noi prendiamo quello proprio del vaccino dell'America del morbillo loro hanno una copertura al 98% quindi da noi si parla al 95% minimo per quella copertura comfort vorrebbero arrivare al 95% sì ma è un'idea che non è reale è un dato qualsiasi uno ha deciso al 95% ma lì sono al 98% eppure oggi in questo momento storico il morbillo negli USA è in aumento anche i casi di morte sono in aumento perché c'è un doppio fenomeno che si crea quando la copertura è troppo alta da vaccino che il morbillo diventa neonatale più pericoloso ma soprattutto si sposta a un'età più adolescenziale si sposta nel tempo e questo è rischioso è molto più rischioso infatti adesso c'è l'obbligo del morbillo anche a farlo a 10 anni fare un richiamo a 10 anni perché si sono resi conto che c'è stato questo spostamento di età dovuto proprio alla vaccinazione quindi diciamo che oggi proprio la certezza sulle vaccinazioni è esattamente qualche cosa che non è verificabile mai lo dimostra il fatto per esempio che prima di vaccinare basterebbe fare degli anticorpi vedere quali bambini hanno già contattato un bambino ha già contattato un certo virus e lui è coperto perché devi fargli un vaccino aggiuntivo ma soprattutto sarebbe interessante fare una valutazione a posteriori dopo le vaccinazioni andare a verificare nel tempo attraverso gli anticorpi quanto i ragazzini vaccinati sono rimasti realmente immuni tutte queste cose non le fanno perché la scusa è sempre la solita mancanza di fondi perché tutto costa ma tutta questa idea della mancanza di fondi va a scapito di chi? dei nostri ragazzi che vengono drammaticamente vaccinati io non sono contro i vaccini io sono per la libertà neanche vaccinare io sono per la libertà di scegliere della mia vita in tutti i campi non solo vaccinare perché questo è fondamentale perché io ho una piccola soluzione da proporre agli ascoltatori senza dover fare duemila carte e così è molto semplice per Mox se posso dire questa mia idea quando ti chiamano tu vai lì tranquillamente loro ti diranno che devi firmare una liberatoria e tu basta che gli dici guardi che io non sono medico non posso prendermi questa responsabilità ovviamente prima di far questo io accendo un registratore e dico adesso io registrerò avviso che sto registrando giusto per una questione di correttezza e dico semplicemente io non sono medico non sono in grado di prendermi una responsabilità vaccinale perché non è il mio compito chiedo a lei dottore la persona che è lì che dovrebbe vaccinare di farmi una carta giurata un affidavici un giuramento scritto dove l'è autografato non firmato eh autografato che è diverso dal firmare dove si scrive il sottoscritto tal dei tali si prende ogni completa responsabilità in funzione del vaccino bla 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 e questa responsabilità se la prende per i prossimi 40 anni deve scrivere che si prende la responsabilità per 40 anni 50 anni non è importante non solo del vaccino dei 40 anni di quello che potrebbe succedere dopo se io dico se lei firma questa carta io vaccino mio figlio me lo faccio unicamente perché nessun medico è così pazzo da firmare una carta così perché i danni vaccinali ce ne sono e ce ne sono non pochi e i medici che hanno una certa conoscenza queste cose le sanno al di là della paura che vogliono mettere non per niente scusa non per niente prima ho parlato di quel caso lì di 700.000 bambini vaccinati e ritirato immediatamente il vaccino l'anno seguente perché le conseguenze che ci sono state capisci ma guarda se noi guardiamo una cosa proprio anche lì dati alla mano la SILS che è la morte cosiddetta bianca quella in culla boh se noi guardiamo il Giappone ha fatto un'esperienza interessante che non si capisce perché non si possa andare a ricalcare loro avevano l'obbligo vaccinale come noi al terzo mese con quattro vaccini come noi e loro erano al 17 mesmo posto per le problematiche legate alla SILS vuol dire che morivano parecchi bambini di SILS d'accordo loro cosa hanno fatto a un certo momento hanno spostato l'obbligo vaccinale ai due anni e tra l'altro interrompendo anche la vaccinazione della MMR e quindi rendendole anche facoltative da quell'istante loro sono passati al primo posto nel senso che non è più praticamente morto nessuno oppure il primo posto è per il numero di gente che moriva il più basso in assoluto a livello mondiale solo spostando di due anni l'attività vaccinale la domanda è se io fossi un ministro della salute con un'esperienza così fatta negli anni 80 io immediatamente farei la stessa cosa perché qua si sta parlando in Italia di morti bianche ovviamente non se ne viene a sapere il numero perché in Italia è difficilissimo avere informazioni in Germania si conoscono in America ma se noi estrapoliamo siccome la Germania è molto simile all'Italia se noi estrapoliamo i dati rispetto all'America all'America muore l'1.5 per mille di bambini nati muoiono da SIDS se si fa il confronto una proporzione semplice semplice in Italia dovrebbero morire circa 900 bambini di questa cosa qua 900 non 1 non 5 900 all'anno in America in realtà perché sono un po' più di milioni di cittadini stiamo parlando di numeri alti e la controprova l'abbiamo vista col Giappone che dal 17esimo posto sono sbalzati al primo ci sono delle indicazioni che non importa se siano scientificamente provate ma lì sono passati quasi a zero di mortalità e a noi continuano a morire 900 bambini all'anno da vaccino perché si sa che dà vaccino questo perché la prova comprendi beh questo adesso mi hai fatto venire in mente un'altra cosa nel senso che la comunità scientifica tra l'altro dice che ci sono due cose interessanti una è che la comunità scientifica comunque oppure ci sono informazioni informazioni che il sistema immunitario del bambino al terzo mese ancora non è formato e quindi io creo grande confusione mettendo un virus un vaccino un vaccino in un colpicino che ancora deve formare il proprio bagaglio diciamo anticorpale l'altro è l'elemento statistico tu hai citato un momento fa hanno fatto un'operazione statistica in fondo i giapponesi hanno spostato una cosa e dopo hanno guardato statisticamente che cosa succedeva a me sembra che negli Stati Uniti a livello statistico ci sono informazioni che dicono che le persone non vaccinate sono sostanzialmente molto più sane più robuste più in buona salute di quelle che in vita sono state vaccinate sì ho letto anch'io questa cosa qua però se vogliamo aggiungere delle cose per esempio l'autismo guardiamo l'autismo dice l'autismo non è in relazione con d'accordo può darsi però in America siccome i dati sono visibili sono alla portata di tutti perché sono abbastanza trasparenti abbastanza vuol dire che sappiamo che non possono essere al 100% ma molto meglio che in Italia per esempio l'autismo negli anni 91-92 c'erano 5300 casi contro i 97.000 del 2001 vuol dire che dopo 10 anni c'è stato un incremento del 1700% quando altre disabilità cioè al di là dell'autismo tutte le altre disabilità in generale sono aumentate solo del 30% perché uno potrebbe dire beh dal 90 al 2000 si mangia diversamente no la situazione sociale politica è diversa sono mille parametri da valutare per carità ma un cambiamento dal 30% a quello del 1700% potrebbe far pensare io non sono qui per dire che la colpa dell'autismo è un vaccino assolutamente no però guardiamo la realtà quella che è percepita anche importante perché il problema è sempre la realtà quella che è e quella percepita io non capisco quale sia la differenza io vivo da genitore e mi devo occupare se vaccinare o no e mi prendo io questa responsabilità se il medico non lo fa e io questo quello che chiederò al medico di fare quell'affidabile quel giuramento mi sono sicuro che non lo firmerà perché nessuno si può prendere questa responsabilità perché lo sanno che ci sono delle grosse problematiche all'interno dei vaccini statisticamente anche lo sanno ed è inutile che le neghiamo perché negare la verità come diceva Bertolt Brecht diceva chi non conosce la verità è un sciocco ma chi conoscendola la chiama bugia è un delinquente e io penso che in Italia io non dico chi dove come non voglio parlare di nessuno in particolare ma ci siano delle persone che delinquono e lì sono d'accordo con Giorgio perché Giorgio sono in completa linea e per secondi fini fanno dei danni fanno dei danni gravissimi senti io ti volevo chiedere anche una a me era capitato nel messaggero del 2016 era non solo la data ma eravamo in inverno e qui nel nel Friuli c'erano dei dati sull'anti influenzale in cui si diceva che praticamente solo 7 medici su 100 avevano fatto l'anti influenzale cosa che viene consigliata senz'altro agli anziani ma viene consigliata un po' a tutti ma sembra anche questo più un grande mercato che è una perché lo stesso mondo che lo somministra è un mondo che sembra ne stia lontano perché se 93 medici su 100 non si preoccupano di farlo io mi domando quanto in realtà la sicurezza la bontà sia così scientifica come ci viene detto ti racconto la mia esperienza io vivevo a quel tempo a Pordenone quindi parlo di un'esperienza vissuta a Pordenone quando c'è stato una volta il medico di base non aveva nessun obbligo di fare il vaccino anti-influenzare i suoi clienti c'è stato un momento che invece l'ASA ha fatto una proposta e ha detto ti do un piccolo compendio io non so se sarà dagli 8 ai 10 euro mi hanno detto così non ho la certezza comunque sicuramente sono più di 6 euro a vaccinazione e lì io so che un medico a Pordenone che non vaccinava praticamente nessuno della sua clientela quell'anno lì che c'è stata questa imposizione questo consiglio retribuito lui è stato quello che ha vaccinato di più allora io davanti a questi numeri qua a questo numero qua non ho detto che tutti i medici hanno fatto così però mi fa pensare una realtà così soprattutto quando leggo il giornale medico il medico d'Italia che è un giornale che esce e viene distribuito a tutti i medici di base e parlo del numero 52 53 del dicembre 85 faccio un riferimento certo così uno può andare a guardare parla un premio Nobel che è il signor Sebin tu sai chi è Sebin è quello che ha portato avanti la vaccinazione della polio lui nell'85 fa dichiarazioni che hanno questo tono ti rego solo due frasette per non portarti via troppo tempo dice abbiamo vaccinato tanta gente da più di 40 anni e secondo me i vaccini non hanno assolutamente funzionato non dice un po' non hanno assolutamente funzionato e continua il giornale dicendo che nel dibattito che hai seguito lo scienziato lo scienziato ha sottolineato che molte conquiste per la salute a cominciare dall'infanzia si sono ottenute grazie alle migliori condizioni di vita e di igiene questo lo diceva nell'85 io la domanda è e noi siamo ancora oggi a disquisire se ha un senso vaccinare per l'antinfluenzale i nonnini i piccolini quando c'è qualcuno che 30 anni fa che ha vissuto una vita ha dedicato una vita alla ricerca vaccinale fa dichiarazioni vaccini che non hanno assolutamente funzionato è questo che io mi domando e se le leggo io queste cose da cittadino e voi che un medico che gli arrivate alla rivista non abbia letto e fatto una domanda questa è la mia richiesta per quello non possiamo più affidarci ciecamente né alla scienza né tantomeno alla medicina che non è scienza ma dobbiamo prenderci delle responsabilità fare un cammino personale di responsabilità e su questo cammino affidarsi alla nostra conoscenza è una conoscenza che ovviamente deve essere nutrita da qualche libro da qualche cosa ma non un libro da due tre libri che hanno visioni diverse sulla stessa realtà in modo che io possa sempre scegliere scelgo se ho più opportunità di guardare le cose se davanti a una realtà io faccio sempre l'esempio si va al ristorante se il camminere ti dice oggi c'è brodino brodino consumè e non c'è nientà tu non stai scegliendo cosa mangiare scegli se mangiare o no ma se lui ti incomincia a dire c'è una pasta con le cozze c'è il brodino c'è il pasticcio ti elenca una serie di opportunità lì hai la realtà lì realmente tu puoi scegliere e noi ogni volta che scegliamo siamo libri e questo è il problema ci vogliono togliere la libertà e questo è il problema non è il problema vaccinale in sé è il problema che dietro c'è un meccanismo che avanza dove ci vogliono condizionare con la paura come dicevi tu a toglierci l'opportunità di riconoscere che siamo delle anime libere e in quanto libere capaci di discernere e di scegliere questo per me è il problema più grande guarda Carlo sono le 19.53 noi siamo arrivati proprio in chiusura e diciamo che tu in modo intuitivo e in qualche modo ispirato hai chiuso proprio su una cosa con la quale abbiamo iniziato con Giorgio parlando della libertà individuale ed è una libertà che io penso che tutti noi in qualche modo dobbiamo dobbiamo afferrarla forte con le mani ci dobbiamo rendere un po' responsabili della nostra libertà individuale e nei casi come questo dei bacini dei nostri bambini affrontando approfondendo le cose senza lasciarci da una parte dividere come giustamente hai detto tu gli uni con gli altri ma piuttosto discutere gli uni con gli altri e cercare di guardare i dati concreti e come seconda cosa non lasciarsi dividere e non lasciarsi intimorire io ti ringrazio della partecipazione grazie Carlo grazie a voi grazie a voi a tutti quanti gli ascoltatori e don buonasera a quanti ci hanno ascoltato e ripasso la linea a Massimo Bonella buonasera a tutti e grazie buonasera riprendiamo la linea qui da Venezia dalla testata giornalistica pianetaogtv.net questa all news perché vorrei dare più che aggiornamenti che diciamo aggiornamenti di rilievo non ce ne sono mi allaccio con una frase che ho sentito molto interessante del tuo ospite quando ha detto che c'è insomma un sistema come per toglici la libertà di fatto ecco e quindi questa cosa questa frase io la potrei anche collegare a il fatto che in Italia stanno scoppiando molte emittenti radio e televisive locali cioè molto probabilmente ci sono accorti che questi emittenti rispetto ai network ai soliti noti a coloro che hanno avuto tutte le frequenze a coloro che continuano a rastradare frequenze che mi chiedo se tanto mi da tanto dove trovano i soldi perché non credo che sia un assurdo la pubblicità allora voglio dire cosa sta succedendo le tv locali bene o male fanno delle informazioni fanno una fanno delle trasmissioni informative di approfondimento che a volte possono andare anche controcorrente analizzano bene il problema della radice questo lo si può dimostrare in diverse emittenti in diverse stazioni televisive ma anche radiofoniche locali e allora cosa si è pensato di fare di creare un sistema per farle scoppiare non si capisce bene faccio un esempio la televisione di Gorizia a Telemare diretta della signora Maria che pensate è una televisione storica sul territorio prima Monfalcone poi portata a Gorizia ed è l'unica televisione lì in quella zona del Friuli Venezia Giulia che sta dando informazione di Gorizia e Provincia il Triestino e non solo molti documentari sulla storia del caso una televisione veramente di spessore ebbene cari signori dal primo settembre a me risulta che la redazione giornalistica è a casa è a casa e i TG non vanno in onda cioè ma stiamo scherzando ma cosa sta succedendo in questo paese perché le televisioni locali qui non vengono rispettate perché non devono avere dei contributi seri per poter gestire una redazione per poter creare dei contratti per i lavoratori per i giornalisti che sono in redazione i giovani qua voglio arrivare com'è possibile che i giovani di 40 anni o poco meno o poco più si ritrovano ora fuori in mezzo alla strada senza più un lavoro senza più una sicurezza con tutte poi le tasse maledette che ha questo paese che ci fanno svenare come faranno ora queste persone ma allora mi domando ancora una volta ce lo chiedo a voi all'opinione pubblica ma insomma in che paese siamo ma fa vivere questo paese o meno non ho capito sembra che veramente diventa una cosa impossibile da vivere com'è possibile che le persone dei 40 anni come nel caso lì a Gorizia siano in mezzo alla strada una televisione lì pronta un gioiello un bellissimo strumento che può fare una bella informazione su quella zona perché lì televisioni non ce ne sono vabbè poco più in là c'era una è stata comprata anche quella benissimo allora non ho capito com'è possibile che una televisione non possa assumere delle persone per fare un servizio pubblico perché non arrivano i contributi previsti ok questa è la situazione perché negli altri stati anche molto vicini parlo subito dopo il confine triestino ci sono hanno le sue frequenze per venire in Italia hanno fatto spostare anche alcune alcuni mux di italiani per fargli spazio non ho capito ma noi siamo i più deficienti allora cioè cosa sta succedendo allora qui è veramente veramente allora in Svizzera si parla di eliminare addirittura il digitale terrestre avere il satellite e la fibra ottica e quindi anche per i pensionati sarà anche molto più semplice qui un pensionato per sintonizzare dei canali diventa matto non riesce più a capire niente e si tende sempre a cambiare a cambiare sistema ma fa tre anni se cambierà si passerà al T1 poi al T2 poi al T4 poi al T1000 ma dico ma stiamo scherzando ma non capisco cioè i cittadini per lo Stato Italiano cosa sono le tv locali per lo Stato Italiano cosa sono le radio locali cosa sono qui abbiamo gente che rimane a casa ok io ho fatto un po' un riassunto un po' di tutta quella di tutta quella che è la problematica questo è quanto cari amici cara opinione pubblica sta succedendo le tv locali stanno scoppiando e la gente è a casa le tv locali non riescono a mandare in onda i propri telegiornali bene mi fermo qui perché siamo fuori tempo massimo 19.59 linea subito a Radio Saius alla Regione Centrale grazie per averci subito buonasera avete ascoltato pianeta oggi eventi nel mondo trasmissione condotta da Massimo Bonella e Aviano Appi vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione grazie a tutti grazie a tutti